Passiamo alla cronaca con la maxi operazione antimafia vortice maestrale sgominate le articolazioni territoriali del clan barese Strisciullo che esercitavano un controllo asfissiante del territorio le parole usate dai PM antimafia i dettagli da Sergio De Nicola Tra i 99 destinatari di ordinanza di arresto molti erano già in carcere da dietro le sbarre continuavano a dare gli ordini eseguiti puntualmente dai sodali del clan che spadroneggiavano nell'area metropolitana di Bari e in alcuni centri della provincia Abbiamo colpito un'organizzazione che da anni vessa in diversi territori e in particolar modo in quattro piazze di spaccio importanti la realtà di Bari, sono stati colpiti soggetti che da tempo operano un controllo del territorio massivo Un'arroganza che fa proseliti soprattutto tra i più giovani del quartiere Libertà lo stesso dove tre anni fa venne aggredita una cronista del Tg1 dalla moglie di Lorenzo Caldarola, uno dei capi del clan Strisciuglio Anche i due figli della coppia sono stati arrestati nella maxi operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia Associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e detenzione di armi anche da guerra 147 gli indagati L'operazione arriva a quattro giorni dall'arresto dell'ex GIP del tribunale di Bari de Benedictis accusato di aver intascato mazzette per favorire le scarcerazioni di mafiosi baresi e foggiani Così si ripristina la fiducia della gente e così solo sulla base di quella fiducia si potrà effettivamente annientare la presenza mafiosa